Ben ritrovati in studio con la nostra prima parte del telegiornale che apriamo parlando di politica, nello specifico delle primarie che hanno visto il raggiungimento di un buon risultato per Pierluigi Berzani, ma non sufficiente per spuntarla al primo turno. Si torna infatti a votare domenica 2 dicembre al ballottaggio tra Pierluigi Berzani e Matteo Renzi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i risultati di queste primarie nel nostro servizio. Successo di Pierluigi Berzani nelle primarie del centrosinistra che però non hanno decretato un vincitore definitivo. Domenica 2 dicembre infatti si torna a votare nel ballottaggio che vede contrapposti Pierluigi Berzani e Matteo Renzi. Sono stati oltre 3 milioni i cittadini che hanno espresso il proprio voto. Berzani ha ottenuto il 44,9%, Renzi il 35,5%, Vendola il 15,6%, Puppato 2,6% e Tabacci l'1,4%. Questi i dati nazionali. A livello regionale, dove i cittadini pugliesi che sono andati a votare sono stati 155.387, è sempre Berzani in testa con il 39,4%, seguito da Niki Vendola al 37,3%, Renzi si ferma al 20%, Puppato all'1% e Tabacci al 2,2%. Anche nella città di Brindisi vince il leader del PD, Berzani, ottenendo 1.184 preferenze, seguito da Vendola con 1.029, Renzi 474, Puppato 19, Tabacci 5. Un dato questo della città di Brindisi in controtendenza però rispetto al resto della provincia, dove a vincere, anche se per una manciata di voti, è stato il governatore della Puglia, Niki Vendola. 17.017 i votanti in tutta la provincia brindisina, che si sono espressi per il 40,3% a favore di Vendola, con 6.842 voti, al 39% per Bersani, con 6.616 voti, seguiti poi da Renzi con il 19,6%, con 3.323 preferenze, Puppato allo 0,7% con 119 voti, infine Tabacci allo 0,3% con 59 preferenze. Le schede bianche e nulle sono state 57. E alla luce di questi risultati abbiamo voluto chiedere ai diversi rappresentanti politici una valutazione politica su come sono andate queste primarie a livello locale. Primaria del centro-sinistra nella provincia di Brindisi ha vinto Niki Vendola, ma nella città di Brindisi invece si è avuta una superiorità di Bersani. Come commenta questo risultato? È un risultato dovuto al fatto che evidentemente gran parte del Partito Democratico, ma anche gran parte della cittadinanza, che si è recata in maniera spontanea a votare, ha votato per Bersani, il motivo sicuramente lo saprà la cittadinanza. Io credo che questo risultato sia il frutto del fatto che comunque l'esperienza di un partito sia, come dire, predominante rispetto a quelle che sono comunque le candidature di tutto il centro-sinistra. Quindi si è andata sull'esperienza e sulla fattività del Partito Democratico. Prossimo appuntamento però con il ballottaggio, Bersani, Renzi, come ci si prepara? Beh, a questo appuntamento è chiaro che io sono convinto che le persone che hanno votato al primo turno andranno sicuramente a votare al secondo turno. E come c'è stata questa manifestazione spontanea, se i dati sono quelli delle risultanze di questa notte, perché io ho assistito allo sfoglio sino alle 11.30 di ieri sera, dove c'era uno scarto di 200 voti rispetto a Vendola su tutta Brindisi, e Renzi, che aveva preso poco più di 500 voti, credo che quantomeno sulla città di Brindisi debba vincere Bersani, Pierluigi Bersani. Secondo lei come si orienteranno gli elettori di Vendola a questo appuntamento? Beh, io credo che gli elettori di Vendola, così come devo registrare massicciamente, si sono mossi ad andare a votare il governatore della Puglia, si rechino a votare Pierluigi Bersani, così come sono anche le dichiarazioni fatte dallo stesso Vendola, che in caso di ballottaggio avrebbe comunque appoggiato Pierluigi Bersani e mai Renzi, anche perché hanno più affinità Pierluigi Bersani con Vendola di quanto ne possa avere Renzi con Vendola. Mi aspetto che non tutti sicuramente, ma gran parte degli elettori di Vendola andranno a votare Bersani, che si sommeranno a quelli che hanno già votato Pierluigi Bersani. Comunque il risultato ottenuto in questo appuntamento elettorale è una conferma dell'apparato del Partito Democratico a Brindisi? Penso proprio di sì, è una conferma di quello che è l'apparato del Partito Democratico, che ha tolto qualche distinguo, che ha voluto votare per Renzi, e che è stata una manifestazione anche lì spontanea da parte di cittadini, che hanno simpatia nei confronti del sindaco di Firenze. Per il resto comunque l'apparato credo che si sia mosso prevalentemente su Bersani. Questo è il risultato di un grosso lavoro, naturalmente, quotidiano, non episodico, ma fammi dire il risultato eccezionale della gente che è venuta a votare, molti dei quali si sono registrati online perché con i limiti che c'erano stati nell'organizzazione, perché molto spesso non ascoltano chi nella vita organizza ogni giorno, hanno voluto fare in quel modo senza dare la possibilità in più punti della città di andarsi a registrare. Avremmo potuto avere, senza esagerare, ancora mille persone, ma questo ci varrà di esperienza per le prossime volte. Beh, hai detto bene, a Brindisi il peso dell'azione politica è caduta su SEL, ma soprattutto sulla Puglia per Vendola, perché gli amici di SEL, per la verità, che non sono tanto rappresentati a Brindisi, hanno potuto utilizzare la nostra organizzazione e quindi sono molto contento del risultato eccezionale che si è avuti, quasi alla pari con un esercito che era dichiaratamente a favore del PD. Questo è un buon viatico per il ballottaggio e naturalmente nel ballottaggio, poi, così come ha detto Vendola, vedremo quali sono i programmi veri, quelli che realmente poi saranno i programmi di governo e se saranno recepite alcune nostre necessità, che non sono proprie, ma della popolazione tipo il precariato, tipo il lavoro, tipo i diritti civili, beh, noi non avremo nessun dubbio, senza esitazione alcuna, sosterremo chi porterà avanti queste necessità dei cittadini che oggi sono ancora più eclatanti rispetto a ieri. Per la provincia i risultati parlano da sé, il 40% Vendola e il 39% Bersani. E' un grosso risultato, una provincia governata dal famoso laboratorio. Bene, incominciano ad interrogarsi coloro i quali sono fautori di questo laboratorio, e non solo in provincia, ma anche nella stessa città governano tutto, ma il risultato è striminzito, solamente 100 più di quanto è rappresentato solamente da pochissime persone che però hanno un grande entusiasmo, lavorano tutti i giorni, stanno con la gente tutti i giorni e naturalmente pongono al centro dell'attenzione i problemi della città, i problemi dei cittadini, non quelli di questo o di quell'altro cittadino. Consigliere Renna, il giorno dopo le primarie del centro-sinistra ballottaggio fra Renzi e Bersani, ma il candidato Renzi ha ottenuto un buon risultato anche a Brindisi? Un suo commento. Ma sì, un buon risultato anche a Brindisi. Renzi ha preso quasi il 20%, nella provincia di Brindisi ha superato i 3.000 voti, in provincia di Brindisi Vendola è il più suffragato e subito dopo c'è Bersani. C'è da fare un'analisi su questo voto. Tutto l'apparato sia di Vendola che del PD si sono mossi chiaramente con tutte le loro forze per portare quanti più cittadini a votare. Chiaramente il fenomeno Renzi è un fenomeno di coraggio. Dicevo in questa settimana a chi voleva votare Renzi si poteva tranquillamente recare al seggio. Noi abbiamo fatto sì delle pre-iscrizioni, ma poi abbiamo chiesto ai cittadini liberamente di andare a votare. Chiaramente in questa settimana sarà profuso un impegno maggiore, perché effettivamente Renzi può vincere le primarie del centro-sinistra e significa veramente un coraggio nuovo che può portare in Italia. Questo significherebbe un cambiamento totale della politica italiana e soprattutto un cambiamento di quelli che sono i dirigenti che da troppi anni, da vent'anni, hanno appunto portato avanti delle politiche forse sbagliate, visto che oggi ci ritroviamo in questa condizione. La giornata di ieri con l'evento delle primarie del centro-sinistra che ha avuto uno straordinario successo di partecipazione popolare segna un punto di non ritorno nella politica del PD e del centro-sinistra. A dichiararlo è in una nota il segretario provinciale del Partito Democratico, Corrado Tarantino, che ha poi aggiunto «Da oggi il PD e il centro-sinistra sono ancora più forti o uniti di prima e tutto lascia presagire che anche domenica prossima questo straordinario successo si possa ripetere». Il consigliere comunale del PD, Salvatore Valentino, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per i risultati conseguiti in città dal candidato alle primarie Matteo Renzi che ha ottenuto un consenso pari al 17,5%. Lo stesso consigliere chiede ora agli elettori brindisino in ultimo sforzo conclusivo nel ballottaggio di domenica prossima. E il dato di queste primarie brindisine è, come dicevamo, in controtendenza rispetto al resto della provincia. In città, infatti, la vittoria di Bersani dimostra ancora una volta l'unità del PD locale a fronte comunque di un ottimo risultato ottenuto dal governatore Nichi Vendola. La città di Brindisi è andata in controtendenza rispetto all'intera provincia e ha scelto Bersani, dimostrando ancora una volta che il PD locale è unito e soprattutto ha le idee ben chiare per il futuro governo della nazione. Certo non sarebbe giusto non rimarcare l'ottimo risultato ottenuto da Vendola in città, anche tenendo conto che proprio il partito del governatore della Puglia è inserito stabilmente in quel centro-sinistra che ha vinto le ultime elezioni comunali, designando Consales come sindaco della città. Ma espressione del governatore Vendola è anche, diremo forse, soprattutto Giovanni Brigante, che è il consigliere regionale dell'altra lista del governatore, la Puglia per Vendola, ed è poi in realtà l'organizzazione di Brigante che ha curato per la maggior parte queste primarie per il proprio leader. Questa strana dicotomia esiste solo a Brindisi e in alcuni casi è stata negativa perché ha diviso i fronti. In questa esperienza invece è stata positiva perché ha sommato i voti delle due parti. In realtà i voti delle primarie non possono essere equiparati a quelli delle amministrative né a quelli delle politiche, perché le motivazioni sono diverse. Ma un fatto è certo, e cioè che il gruppo che ha rappresentato Bersani a Brindisi è riuscito a far vincere il segretario del partito, mentre in provincia non è avvenuta la stessa cosa. Proprio questa forza di Vendola sarà l'elemento importante in questa settimana durante la quale Renzi e Bersani dovranno cercare di convincere il popolo di centrosinistra su quale sia la ricetta migliore e i voti di Vendola peseranno in modo determinante per la decisione finale. E come sempre avviene in politica, la storia del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno trionfa in ogni caso. In casa del PD Brindisino esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto in città. Dall'altra parte, Brigante e Selle sono estremamente soddisfatti di aver avuto un risultato eclatante in campo provinciale. Soddisfazione è stata espressa anche dallo staff del PD Brindisino che ha rilevato come proprio la vittoria di Bersani nella città capoluogo abbia dato la conferma dell'importanza di avere il sindaco di Brindisi che ha sposato completamente la causa del segretario ponendosi come punto di riferimento dei comitati pro-Bersani. L'assessore alla riqualificazione delle coste Pasquale Luperti e il comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Brindisi Paolo De Santis hanno sottoscritto il verbale di immissione dell'area sbitri finalizzata all'esecuzione di interventi di bonifica e ripristino ambientale. La stessa amministrazione ha già sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta di Duca costruzioni di Atina e un frosinone per la demolizione, la raccolta e il trasporto in discarica dei 39 fabbricati abusivi presenti e per gli interventi di riqualifica della zona. Il tempo previsto per i lavori è di soli 4 mesi. Inoltre, il 18 dicembre prossimo il Comune e la Capitaneria di Porto avranno un altro incontro circa la consegna dell'ex spiagge degli ufficiali della Marina Militare. Grande successo per il Need Platform la manifestazione dedicata alla danza tenutasi a Brindisi e Lecce nello scorso fine settimana. Tanti di spettacoli e i convegni organizzati conclusisi ieri presso il Teatro Impero. Soddisfazione è stata espressa dal direttore del Teatro Pubblico Pugliese Carmelo Grassi ma ascoltiamo i dettagli nel nostro servizio. Grande successo per Need Platform la nuova piattaforma della danza che è sbarcata in esclusiva a Brindisi e Lecce nello scorso fine settimana. La manifestazione che ha raccorto la notevole partecipazione di appassionati del settore e non solo ha presentato diversi spettacoli e altrettanti ribattiti sia al Teatro Verdi e al Teatro Impero di Brindisi che nei teatri Paesiello e nei cantieri teatrali Coreia di Lecce. Un primo evento che non a caso sembra già unire le città di Brindisi e Lecce è come sottolineato dal direttore del Teatro Pubblico Pugliese Carmelo Grassi. Tanti gli ospiti giunti in città per un evento unico nel suo genere Brindisi ha infatti ospitato grandi nomi della danza nazionale e internazionale se non addirittura mondiale tra i tanti Simona Bertozzi Mauro Bigonzetti Roberto Castello Helen Cerina diventando così anche un'importante vetrina della danza nel Salento. Ma non solo perché Brindisi presso Palazzo Granofanirvegna ha ospitato per prima gli stati generali della danza con diversi convegni organizzati con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome sui diversi e più svariati temi del settore. Tra gli spettacoli andati in scena il primo con Simona Bucci rimasti al Teatro Impero poi Escaton con Luisa Cortesi al Teatro Verdi l'inaugurazione poi con il Balletto Teatro di Torino con le Vergini e a seguire Scena Madre della compagnia Biandanza Bertoni Instrument 1 Scoprire l'Invisibile della compagnia Zappa la Danza Isolario delle Supplici e il Sacro della Primavera del Balletto Civile. Importante opportunità è stata anche data ai tanti ballerini della provincia di Brindisi oltre che a quelli di Lecce che scendendo in piazza nelle rispettive città con le proprie scuole e compagnie di ballo sono stati protagonisti dell'anteprima di questa grande manifestazione con la Dance Parade. La conclusione poi in grande stile ieri al Teatro Impero con il gruppo Nanu che ha presentato On Air il progetto Dancing Goal. Brindisi per la piattaforma della danza italiana e abbiamo mostrato i migliori lavori della danza ai nostri operatori sia nazionali che internazionali. è un momento importante questa è la prima piattaforma in Italia che si svolge fra Brindisi e Lecce e oggi noi concluderemo qui a Palazzo Nervegna con il direttore generale dello spettacolo dal vivo del Ministero dei Beni e Attività Culturali che verrà a rispondere a tutte le sollecitazioni che gli operatori gli faranno e chiederanno come il Ministero vorrà muoversi nei prossimi mesi e che prospettive ci sono per la danza è un momento importante di confronto e anche di progettazione rispetto al futuro in questo momento molto difficile per lo spettacolo dal vivo in genere in particolare per la danza che è la forma di spettacolo meno assistita dallo Stato quindi speriamo che si trovino delle soluzioni e anche che ci siano delle prospettive per questo settore presso Palazzo Guerrieri si è svolta la giornata di orientamento al lavoro Job Destination organizzata dallo sportello Informa Giovani di Brindisi in collaborazione con Rete Informa e l'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Brindisi obiettivi della giornata sono favorire la conoscenza del mercato del lavoro e la ricerca attiva grazie alla partecipazione di enti agenzie del lavoro associazioni di categoria che hanno aderito all'iniziativa in un momento particolarmente critico in cui è molto forte la crisi occupazionale iniziative di questo tipo servono sicuramente a orientare i più giovani tante le iscrizioni a Job Destination guarda questa è una delle iniziative che ormai l'Informa Giovani ha sponsorizzato già dall'inizio l'amministrazione Consales ha puntato da subito già da quando ci siamo insediati a maggio scorso abbiamo voluto fortemente che l'Informa Giovani diventasse un punto di riferimento per la comunità per i nostri giovani la soddisfazione viene strada facendo noi abbiamo avuto il primo progetto un risultato incredibile con principi attivi abbiamo partecipato per il primo anno a tantissimi progetti e questo lascia capire insomma che i giovani sono attenti a quello che è il lavoro e quando si lavora soprattutto sono attenti alle opportunità che si creano nell'ottica di questo oggi una bellissima iniziativa abbiamo radunato grazie alla consapevolezza che sette enti accettano di partecipare a questa giornata una giornata che vuole diventare un punto di riferimento nel contesto che ci siamo già detti ed è fondamentale perché noi vogliamo diventare per i giovani un qualcosa in più per cercare di crearli quelle condizioni maggiormente ancora più importanti più impegnanti proprio per dare delle risposte e creare delle opportunità che oggi in un momento così difficile è difficile anche reperire quindi professionalità attenzione un contesto importante una giornata bellissima abbiamo avuto 150 adesioni in pochissime ore la cosa che ci lascia poi sorridere è che noi lavoriamo soprattutto per la città di Brindisi ma oggi raccogliamo anche dalla provincia e non solo dalla provincia sono arrivati anche da Gruttaglie penso ai ragazzi che sono venuti da Fasano anche non giovanissimi quindi voglio dire c'è attenzione la professionalità paga sempre io ringrazio l'informa giovani ringrazio chi oggi ha aderito a questa manifestazione vogliamo farla vogliamo ripeterla perché credo che le cose che poi riescono bene devono essere approfondite migliorate aggiustate siamo soddisfatti tene ancora banco tra i politici Brindisini la vicenda del mercatino di Natale dopo quanto avvenuto nella settimana scorsa adesso si chiedono spiegazioni al vice sindaco oggi riunione della commissione attività produttive alla quale però l'assessore Baldassarre non ha inteso partecipare riunione a palazzo di città della commissione attività produttive per chiarire la situazione di quanto avvenuto la settimana scorsa in merito alla vicenda locali ex upim era stata invitata l'assessore Baldassarre per fornire delucidazioni in merito ma non si è presentata come noto la storia dell'utilizzo dei locali ex upim è andata in fumo per la dura presa di posizione delle associazioni di categoria che hanno stigmatizzato il comportamento dell'assessore Paola Baldassarre ma vi è anche dall'opposizione una richiesta ben precisa e cioè si vuole sapere chi pagherà le spese per i lavori di abbellimento esterno che sono state realizzate dalla multiservizi e soprattutto a quanto ammontano oggetto anche delle critiche di qualcuno dei consiglieri di centrodestra è la determina dirigenziale che prevede una spesa di 20.000 euro per abbellire alcune facciate di edifici obsoleti del centro della città in quanto il criterio usato è lo stesso che si voleva utilizzare per i locali ex upim e cioè soldi pubblici spesi a vantaggio di privati ma di tutto questo ha detto il consigliere Santoro del PDL si parlerà in un comunicato ufficiale che verrà diramato in giornata il consigliere regionale di futuro e libertà e o proprio curto con una nota chiede ai deputati e senatori brindisini un ultimo sforzo per salvare la provincia di Brindisi relativamente al riordino delle province affinché la questione possa assumere importanza di carattere nazionale e lo fa con una richiesta piuttosto atipica propongo si legge un'autotassazione dei parlamentari dei consiglieri regionali dei sindaci e di tutti coloro che lo riterranno opportuno finalizzata ad acquistare pagine centrali dei maggiori quotidiani nazionali per rivendicare il no alla soppressione di una provincia come quella di Brindisi che è già stata capitale d'Italia questa sera dopo il TG nel consueto a spazio dedicato all'approfondimento condotto da Renato Rubino Puglia TV ospiterà il professor Giacomo Carito consigliere di storia patria per la Puglia per parlare dei restauri di alcune chiese del Brindisino e delle opere d'arte religiose e storiche l'appuntamento è dopo il TG di questa sera linea alla regia ora per la pubblicità torneremo in studio parlando di sport grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.